Mario Mema, il 19enne albanese finito in carcere con l'accusa di omicidio premeditato in concorso per la morte di Ismaele Lulli, ha visto Igli Meta uccidere il ragazzo con una coltellata al collo. Ma era a distanza di una ventina di metri e non ha potuto fare nulla. Ne si aspettava che il chiarimento tra i due, per una breve relazione tra la ragazza di Igli, Ambera e Ismaele, sfociasse nell'omicidio. Mario aveva chiesto, tramite il suo legale, l'avvocato Umberto Monti di essere sentito dal magistrato, un faccia a faccia nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro che è durato dalle undici e mezzo di questa mattina fino oltre le quattro del pomeriggio. Il 19enne ha sostanzialmente confermato quanto aveva detto in altri interrogatori, aggiungendo però qualche particolare in più in un racconto comunque ampio ed esauriente, come l'aver assistito appunto all'omicidio. Mario era arrivato in macchina con Igli e Ismaele in località San Martino in Selva Nera dopo un messaggio di Ambera che gli dava appuntamento alla stazione degli autobus di Sant'Angelo in Vado, dove invece si erano presentati Igli e Mario. Una volta arrivati sulla sommità del colle, dominato da una chiesetta e da una croce di ferro, Igli ha chiesto a Mario di lasciarli soli. Il 19enne pensava che ci sarebbe stato un chiarimento, magari un litigio o una scazzottata per quella relazione con Ambera che ossessionava Igli. Nel suo racconto Ismaele avrebbe accettato di farsi legare con del nastro adesivo per sottoporsi ad una specie di interrogatorio. Invece Igli si è chiesto a voce alta cosa devo fare e poi ha affondato la lama del suo coltello a serramanico nel collo di Ismaele. Mario ha ammesso di aver partecipato alla pulizia del luogo del delitto, poi di essere andato con Igli a lavarsi nel fiume. Sempre Igli nel suo racconto avrebbe inviato come depistaggio un sms alla madre di Ismaele in cui annunciava di voler andare a Milano per cambiare vita, per poi buttare il cellulare, un iPhone, del ragazzo ucciso nel fiume. Il giorno dopo la scoperta del cadavere erano arrivati i carabinieri per interrogare Mario e il giovane. Secondo il suo legale avrebbe fatto subito le prime ammissioni, un racconto che al momento collima con i vari punti con quanto detto da Igli agli inquirenti, in particolare nell'escludere un ruolo attivo di Mario nell'omicidio. Secondo l'avvocato Monti non ci può essere dunque la premeditazione contestata dal PM Irene Lilliu nel caso di Mario che appunto non pensava ad una conclusione così sanguinosa. E per lo stesso motivo anche la concorsualità si può escludere, dice il suo avvocato. Sono invece già usciti dall'inchiesta altri due ragazzi albanesi che sarebbero stati in macchina con Igli e Mario prima di far salire il povero Ismaele.